Usare Discord per creare e gestire un gruppo di lavoro. Oggi proviamo a creare un server su Discord per gestire un'intera azienda. Un'azienda con pochi dipendenti, ovviamente un'azienda ipotetica, che ha la necessità di avere diversi uffici, diversi canali testuali e vocali per ogni singolo ufficio, e diversi ruoli, dirigente, supervisore, funzionario, dipendente, e magari, che ne so, bot, automazione, ospite, chissà cosa, consulente esterno. Tutte queste cose qua. Vedremo dunque come partire dalla creazione di un semplice server su Discord e come andare poi a definire gli utenti, i ruoli, i canali, e quindi poi come andare a creare una vera e propria casa, una home, una dashboard, definitela un po' come vi pare, per la nostra ipotetica azienda. Per farlo, ovviamente, utilizzeremo Discord senza nessun altro addon esterno, senza nessun plugin, senza nessun bot. Utilizzeremo veramente la piattaforma come mamma l'ha fatta, senza aggiungerci nessun tipo di componente aggiuntivo. Prima di cominciare, vi ricordo la presenza, però, del mio canale Telegram, che ho sulla Tutorial Express e il suo username, all'interno del quale trovate una serie di contenuti, informazioni e aggiornamenti che non pubblico da queste parti su YouTube. A questo punto, passiamo direttamente alla creazione del nostro server, e, ovviamente, una cosa che vi segnalo è che il video sarà un pochino lungo, perché lo faccio veramente con voi passo dopo passo. Quindi, se volete, se volete, ovviamente, seguire una sola parte del tutorial, magari quella in cui definiamo i ruoli, quella in cui creiamo i canali, trovate i marcatori di capitolo in descrizione e qui sotto nella barra di scorrimento. Oltre a che, ovviamente, un tutorial completo, che trovate, in questo caso, in descrizione o, semplicemente, cercando all'interno del mio canale. Quindi, se non sapete utilizzare Discord, vi consiglio, prima di guardare il tutorial, per comprendere, perlomeno a livello base, cosa andremo a fare, dal momento che non riproporrò durante il corso del video alcuna spiegazione teorica. Dopo tutta questa lunga serie di introduzioni, possiamo veramente buttarci su Discord. Questo è il mio vero Discord, tra l'altro, con il mio account reale, quello che uso quotidianamente. Infatti, spero che non compaiano delle notifiche di persone che mi taggano da qualche parte. In caso, dovrò, ovviamente, mettere in pausa il video e riregistrarlo, o comunque interromperlo, per evitare, ovviamente, di disturbare il tutorial. E, a questo punto, direi che possiamo cominciare dalla creazione del server. Creare un server è facilissimo. L'abbiamo visto nel tutorial completo, quindi, se non sapete come si fa, andate a ripescarvi quel tutorial. Ora lo vediamo molto velocemente. Clicchiamo sul più. Creiamo un server personalizzato per, direi, un club o una community. Lo chiamiamo, che ne so, pizzeria. Anzi, no, facciamo qualcosa di più serio. Ipotizziamo di voler creare un server per una banca. Ok, la chiameremo Banca Tutorial Express. Direi nome molto fantasioso. E clicchiamo su Crea. Una volta creato il nostro server, possiamo fare un sacco di cose. A partire, ovviamente, dalla gestione delle impostazioni e dell'apparenza grafica del mio server. Cosa che andremo a fare ora, una volta per tutte, senza perderci poi, durante i capitoli successivi del video, a impostare il server, cose di questo genere. La prima cosa che vediamo è che io sono l'admin del server e che in questo momento non c'è nessun altro all'interno del mio server, ovviamente avendolo appena creato. Per invitare gli utenti andremo a cliccare qui sopra su Invita e poi copieremo un link di invito come questo qui. Dopodiché, la cosa fondamentale in questo momento è andare a gestire le impostazioni del server. L'unica cosa che facciamo ora, tutto il resto lo vediamo dopo con calma, perché quello che dobbiamo fare è andare, per esempio, a caricare un'icona, caricare, che ne so, cambiare il nome eventualmente del mio server, andare a gestire i ruoli, cosa che faremo dopo nel dettaglio. Le emoji, cosa che per una banca non è molto interessante. Gli adesivi, la soundboard, i widget, tutte cose che non ci serviranno nella maggior parte dei casi, perché ad una banca non serve avere un set di emoji personalizzato, una soundboard o degli adesivi. Ci serve piuttosto magari un'integrazione. E allora qui possiamo connetterci con dei webhook, che per semplificare c'è un tutorial completo anche sui webhook, quindi se volete cercatelo. Ma ve lo dico molto velocemente, sono degli URL che, se aperti da un browser, fanno scattare delle azioni, delle automazioni, in questo caso all'interno del mio Discord, per dirla proprio papale papale. Possiamo aggiungere delle app, il che può essere interessante, come per esempio la whiteboard, che può essere utilizzata durante un meeting, per esempio, dai vari utenti. Ma ora non andremo a parlare di queste cose per una questione di brevità. Insomma, qui vi impostate il vostro server, tutte le cose di cui avete bisogno, in maniera semplice, lineare e ovviamente elegante, dal momento che non è una community di amici, ma è un server per un ufficio, per un'azienda, o comunque, insomma, per un gruppo di lavoro, che necessita di un certo livello di serietà, per quanto mi riguarda. Quindi, ipotizziamo che voi abbiate impostato tutto il vostro server, che abbiate tutte le varie cose pronte, la grafica pronta, tutte queste cose qua. L'unica cosa che dobbiamo fare ora è andare a lavorare su questa sezione, la sezione dei canali, cosa che ora andremo a fare dettagliatamente. Perché nel nostro ufficio, anzi, nella nostra azienda, non c'è un singolo ufficio. Ci sono diversi team, diversi gruppi di lavoro. Per la mia banca, magari, c'è chi si occupa dei trasferimenti di denaro, c'è chi si occupa degli sportelli, e quindi del rapporto con i clienti, c'è chi si occupa della contabilità, c'è chi si occupa, che ne so, dei contatti con l'esterno. Insomma, le opzioni sono davvero tante. E allora, dobbiamo creare altrettanti uffici, e quindi altrettanti canali, per andare a gestire, ovviamente, tutta la mia azienda, e tutto il mio istituto bancario. La prima cosa che facciamo, è andare a rimuovere queste due sezioni, canali testuali e canali vocali, perché non ci servono, in realtà. Andiamo ad eliminare questo canale vocale, perché semplicemente nessuno gli ha chiesto di crearcelo. E poi, su generale, andiamo a modificare il nome del mio canale come annunci. Annunci non avrà un argomento, anzi, facciamo le cose fatte bene. Notifiche e avvisi per tutti i dipendenti. Ok, perfetto. Lo slow mode lo disattiviamo, canale soggetto limiti d'età lo possiamo disattivare, andiamo nei permessi, no, salviamo prima le modifiche, poi andiamo nei permessi, e andiamo a, gestire i permessi avanzati, e quindi, everyone, cioè tutti, cosa potranno fare? Anzi, facciamo così, i permessi li gestiamo dopo, dai, per ora creiamo soltanto i canali. Quindi, abbiamo il canale annunci, poi creiamo una categoria, l'ho fatto con tasto destro, crea categoria. Questa categoria si chiama magari, rapporti, anzi, facciamo, 0-1, rapporti con il pub, anzi, con la clientela. Ottimo. E poi creiamo un canale, un canale testuale, che chiameremo, rc, che sta per rapporti clientela, rc, anzi, facciamo, testuale, underscore rc, oppure underscore 0-1, visto che è il nostro ufficio, quindi, 0-1, testuale, crea canale. Ottimo, e lo inseriamo in rapporti con la clientela. Poi ci creiamo un canale vocale, che chiameremo 0-1, vocale. Crea canale, lo riportiamo nella sezione, e ora abbiamo due canali, un canale testuale e un canale vocale, per il nostro ufficio, rapporti con la clientela. Ora dobbiamo semplicemente andare a ripetere questa operazione, per, per tutti i nostri uffici. Quindi mettiamo numero 2, contabilità, e in contabilità ci mettiamo di nuovo il canale testuale, che chiameremo 0-2, testuale, e il canale vocale. E poi andiamo avanti anche per l'ufficio numero 3, e avanti così, 0-2, vocale. Vi faccio notare che, eventualmente, potreste anche dare lo stesso nome a due canali diversi. Però, in questo momento stiamo dando nomi distinti per fare in modo, ovviamente di non confonderci, semplicemente. Questo è l'unico motivo per cui lo stiamo facendo, in realtà. Crea una nuova categoria, 0-3, 0-3, quindi abbiamo fatto rapporti con la clientela, contabilità, cosa può mancare? Che ne so, amministrazione, amministrazione, ok, crea categoria, e anche qui ci mettiamo due canali, il canale testuale, 0-3, testuale, e il canale vocale, 0-3, ops, l'ho chiamato 0-testuale, andiamo a rinominarlo, così, modifica il canale, 0-3, testuale, salviamo le modifiche, chiudiamo, e infine, 0-3, vocale, creiamo il canale, e portiamolo nella nostra sezione. Bene, no, non è un canale testuale, è un canale vocale. come lo faccio a convertire in canale vocale, mi sa che non posso farlo, quindi, o no, no, infatti non lo posso fare, eliminiamo il canale, e creiamo un nuovo canale, voce, 0-3, vocale, bene, questi quindi sono i nostri canali, e di conseguenza sono i nostri tre uffici, l'ufficio 0-1, rapporti con la clientela, l'ufficio 0-2, contabilità, e l'ufficio 0-3, amministrazione. Ottimo, direi che per ora abbiamo già fatto un buon lavoro, possiamo valutare anche di chiudere queste sezioni, per avere un'interfaccia più ordinata. Andiamo a creare una nuova categoria, che chiameremo, che ne so, che chiameremo, notifiche. Ok, e qui ci mettiamo annunci, anzi, che chiameremo public. rinominiamo la categoria, modifica, public, salviamo le modifiche, e qui dentro ci mettiamo, lo portiamo sopra, ok, ci mettiamo gli annunci, molto semplice. Poi ci mettiamo un canale, che chiameremo neoassunti, in cui magari diamo il benvenuto ai nuovi utenti, quindi semplicemente, quando un nuovo dipendente viene assunto nella mia banca, magari l'admin, cioè io, vado a scrivere benvenuto nel team, e che ne so, magari scrivo una breve presentazione, così che anche il resto dei dipendenti, sappia qualcosa riguardo questo neoassunto. Quindi, annunci neoassunti, e poi potremmo creare eventualmente un canale di eventi. Quindi, non mi ricordo di preciso come si faccia, ora devo cercare di ricordarmelo, dovrebbe essere in teoria crea canale voce, che chiamiamo eventi, crea canale, andiamo ad impostarlo come canale di eventi, cosa che però non mi ricordo come si faccia, onestamente, quindi dovrò, dovrò cercare di capirlo. Forse devo andare su impostazioni utente, non su impostazioni utente, su, vediamo se avete visto qualche dato che non doveva essere visto, no, ok, perfetto, dicevo non su impostazioni utente, ma su impostazioni del server, direi, e da qualche parte dovrei riuscire a trovare un'opzione per gestire gli eventi, messaggi di sistema, ok, creiamoci un nuovo canale per questa cosa qua, cioè, sistema, e lo mettiamo nella categoria altro. Bene, e qui ci mettiamo le notifiche di sistema, perché in impostazioni del server devo scegliere un canale dove mandarle le notifiche di sistema, ottimo. Poi, questo lo possiamo disattivare, suggerisce ai membri di rispondere ai messaggi di benvenuto con un adesivo, no, invia un messaggio quando qualcuno potenzia questo server, no, invia consigli utili, no, ok, impostazioni del feed attività, mostra il feed attività in questo server, direi che non possiamo, che possiamo disattivarlo, impostazioni notifiche predefinite, possiamo decidere se inviare notifiche agli utenti, per ogni messaggio che viene mandato sul server, o soltanto quando vengono menzionati, io manterrei attivo tutti i messaggi, anche se Discord ci suggerisce il contrario, salviamo le modifiche, forse modello server, no, qui possiamo configurare le cose come, le impostazioni che vengono mostrate quando una persona cerca di accedere al server, cioè magari una breve descrizione dei contenuti che si trovano all'interno del server, possiamo inserire il regolamento, tutte queste cose qua che non andremo a fare in questo caso, semplicemente perché non è una community, è un server di lavoro, quindi direi che non c'è bisogno di lavorare con tutta questa gamification in atto, insomma. Provo a creare un evento per capire dove mi viene, ok, questo era quello che volevo fare, canale vocale, eventi, avanti, argomento dell'evento, riunione, ok, dato di inizio ore 17, ok, non si ripete, descrizione, avanti, crea evento, ok, a questo punto, vi faccio notare che all'interno del server possiamo anche creare degli eventi che si svolgono in specifici canali, in questo caso ipotizziamo di voler creare una riunione generale per tutti i dipendenti, la creiamo come evento nella sezione eventi, per fare in modo che qui, in questo caso tra 52 minuti, i miei dipendenti si colleghino perché riceveranno una notifica che ci sta per essere un evento, si collegheranno in questo preciso canale vocale a cui, teoricamente, poi lo vedremo dai, dai, dalla gestione dei ruoli, devono avere accesso tutti. Ora eliminiamo questo evento perché in realtà non ci serviva, era soltanto per capire se erano configurabili o meno, perché non mi ricordavo onestamente, se si potessero creare senza particolari impostazioni di community o no. Bene, ora abbiamo i nostri elementi public, abbiamo il nostro altro, un'altra cosa che potremmo fare nella sezione amministrazione, no vabbè, anzi, evitiamo di complicarci troppo la vita, dai, dire che può bastare così, annunci, ne ho assunti, eventi, ottimo, che cos'altro possiamo fare? In realtà non possiamo fare molto altro, se non magari andare ad impostare questi canali come, come canali per le notizie, ma se non erro, questa non essendo una community, non dà a disposizione i canali per le notizie, non vorrei dire qualche castroneria, perché onestamente non me lo ricordo. Vabbè, ad ogni modo, questi sono i nostri canali, ok, dai, mettiamoci una pietra sopra, abbiamo creato i nostri canali, eventualmente se sto commettendo qualche errore, fatemelo sapere, nei commenti. I nostri canali a questo punto non possono essere accessibili a tutti, perché un dipendente dell'ufficio numero 1 non ha senso che acceda anche al canale testuale, al canale vocale dell'ufficio numero 2, quindi la cosa più comoda è andare a creare dei ruoli. Cosa che facciamo ora? Andiamo quindi a decidere chi può accedere a cosa. Per farlo, apriamo le impostazioni del mio server, impostazioni del server, e andiamo su ruoli. Creiamo un nuovo ruolo, che chiamiamo amministrazione. Ottimo. Il colore del ruolo direi che è questo marroncino. Andiamo eventualmente a gestire, ad impostare un'immagine per questo ruolo, direi che non ha senso. Mostriamo i membri del ruolo in una categoria separata dagli utenti online, direi di sì. Permettiamo a chiunque di menzionare questo ruolo? Possiamo decidere, se farlo o meno. Non lo so, onestamente. Direi che in questo caso possiamo benissimo evitare di menzionare l'amministrazione, anzi facciamolo dai, così se magari c'è qualche problema nel nostro server, i nostri dipendenti ci possono menzionare, e salviamo le modifiche. Ora nei permessi, direi che possiamo attivare semplicemente tutti i permessi, quindi possono fare qualunque cosa, essendo amministratori, hanno pieno diritto di gestione del server, perché corrispondono anche ovviamente agli amministratori della banca. Per questo, hanno il diritto di fare qualunque cosa. Andiamo ad attivare tutto, fino in fondo, è una lista piuttosto lunga, perché i permessi sono piuttosto dettagliati. Insomma, per gli amministratori, quindi, diamo pieno potere di gestione del nostro server Discord. Qui nei ruoli andiamo poi magari ad inserire anche membro dell'ufficio 1, membro dell'ufficio 2, membro dell'ufficio 3, e avanti così. Quindi andiamo a creare un ruolo per ogni ufficio. Salva modifiche. Ottimo. Ora, creiamo un nuovo ruolo, che chiameremo ufficio 1, anzi U1 direi, così è più conciso, è più efficace. Colore giallo, perché ho voglia di giallo. Poi, permessi, che cosa possono fare? Dovremmo andare a gestire, ok, permessi generali del server, direi di no. Permessi dell'iscrizione, tutte queste cose qua, no, assolutamente no. Permessi del canale testuale, possiamo valutare, se fargli utilizzare, se fargli mandare messaggi in tutto. In questo caso disattiviamo tutto, così ci è più comodo. Quindi, gli utenti dell'ufficio 1 non possono fare nulla. Così come gli utenti dell'ufficio 2, e così poi come gli utenti dell'ufficio 3. Questo perché poi, quando andremo a, nei singoli canali, a gestire i permessi, andremo a dire, guarda che nel canale, ad esempio, ufficio 3 vocale, o ufficio 3 in forma testuale, solo quelli che hanno un ruolo U3 possono scrivere. Questo lo facciamo dalle impostazioni, però, del canale, non dalle impostazioni generali del server. Quindi, U1, U2, U3, ottimo. Chiudiamo. Ah, l'ufficio 3 era l'amministrazione, allora direi che non c'è bisogno di un ruolo U3. Torniamo nei ruoli, e togliamo U3. Elimina. Ok. Ottimo. Ora possiamo chiudere. E a questo punto andiamo a fare la cosa che vi stavo dicendo. Quindi andiamo nel canale 01 testuale, impostazioni, permessi, permessi avanzati, il ruolo, siamo nel, nel numero 1. L'utente 1 può visualizzare il canale, non gestire il canale, non gestire i permessi, non gestire webhook, non creare inviti, sì inviare messaggi, sì inviare messaggi nei thread, sì creare thread, tac, 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 sì incorporare link, sì allegare, sì aggiungere reaction, utilizzare emoji esterne, no adesivi esterni, no menzionare everyone here e tutti i ruoli, no direi che non ha molto senso, gestire messaggi, no gestire i thread, no leggere cronologia, sì sintesi vocale, sì messaggi vocali, facciamo di no dai, sondaggi, sì e poi comandi, sì attività, sì e app esterne, sì ok dai, anzi facciamo tutto di no così siamo più restrittivi, salviamo le modifiche, e a questo punto soltanto il canale, il ruolo U1 vedrà il canale, il canale testuale, questo perché nelle impostazioni del server, il ruolo U1 così come il ruolo U2, in teoria non ha nemmeno il permesso di vedere i canali, vediamo infatti, visualizzare i canali, tolto, molto comodamente, ottimo, poi, dobbiamo ripetere ovviamente queste impostazioni per tutti, quindi anche, direi che possiamo disconnetterci, quindi anche per il canale 2, il canale 3 e tutto quanto, ora non lo vado a fare per tutti perché non ha molto senso, l'unica cosa che vi faccio notare è che poi magari nei ruoli del mio server, impostazioni del server, dovrei andare a creare un ruolo che si chiama, magari, che ne so, funzionario, ok, e il funzionario che ha colore viola, può, che ne so, magari visualizzare e scrivere in tutti, in tutti i canali, ma non può modificarne le impostazioni, perché lo possono fare solo gli amministratori, questo potrebbe essere un esempio di ruolo funzionario, ovviamente poi, sta a voi configurarvi nel dettaglio ogni singolo canale con i ruoli, chi può fare cosa, magari certi utenti possono fare qualcosina in più, ma non c'è bisogno di creare un altro ruolo, poi c'è magari il ruolo consulenti esterni, che possono fare qualcosa in meno, che ne so, bot che possono fare certe cose, altre no, insomma le impostazioni sono davvero davvero tante, l'ultima cosa però che dobbiamo fare, è andare ad invitare i nostri utenti, molto semplicemente, andiamo come abbiamo visto velocemente prima, ad abbassare questo menu a tendina, e a cliccare su invita, una volta cliccato su invita, clicchiamo su copia per quanto riguarda questo link, avremo soltanto sette giorni di tempo, eventualmente possiamo allungare questa scadenza, se sappiamo che i nostri dipendenti sono abbastanza lenti a leggere le mail, generiamo il nuovo link, lo copiamo, e poi mandandolo a una persona, via mail ai nostri dipendenti, loro potranno accedere, una volta acceduto al server, quindi una volta essersi uniti, noi dovremmo andare uno per uno, ad assegnare i ruoli, quindi a dire guarda che tizio Caio è ufficio 1, guarda che lui è amministrazione, guarda che lui è, che ne so, è ufficio 1, è funzionario, quindi è il capo dell'ufficio 1, per semplificare, insomma, possiamo fare diverse cose, che ovviamente variano da ufficio a ufficio, da persona a persona, e da ruolo a ruolo, ovviamente perché le persone sono diverse, i ruoli sono diversi, e i diritti che ha una persona all'interno del mio server, di conseguenza sono diversi, ed ecco quindi spiegato come gestire un'azienda, utilizzando Discord, è molto comodo in realtà questo strumento, perché possiamo andare davvero in maniera molto minuziosa, a gestire i permessi di ogni singolo utente, e poi è anche carino e moderno, dal punto di vista grafico, soprattutto vista l'integrazione anche di strumenti di meeting, visto che ci sono i canali vocali, dove si può anche attivare la videocamera, l'integrazione di app terze, magari se vogliamo commentare, che ne so, una diretta particolare, un TED, magari come giornata di formazione per i miei dipendenti, possiamo guardarlo direttamente da YouTube, integrato in Discord, insomma, le possibilità sono davvero tante, e se siete voi gli amministratori di un'azienda, valuterei, perché no, l'utilizzo di Discord, per gestire i vostri dipendenti, i vostri uffici, e in generale tutto ciò che ha a che vedere, con la comunicazione all'interno della vostra impresa, e questo è quanto, io vi ringrazio, e vi invito ad accedere al mio canale Telegram, non Discord, ma Telegram, chioccio la Tutorial Express, dove trovate una serie di informazioni, link, contenuti extra, insomma, se volete dateci un'occhiata, e poi ovviamente valutate anche di iscrivervi a questo canale, attivando la campanella, a questo punto, io non posso fare altro che ringraziarvi per aver seguito questo tutorial, vi mando un abbraccio, e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!